Non si può escludere un ente dall'accreditamento perché è in corso un contenzioso con la regione siciliana. Il TAR da ragione al ricorso di 22 enti di formazione sospende la norma Scilabra. Per il pronunciamento definitivo bisognerà però attendere l'udienza di ottobre del prossimo anno. È polemica sull'appalto da 160 milioni di euro per le assicurazioni sanitarie bloccate dalla giunta Crocetta. Si difende il direttore del civico Carmelo Pullara, la cui azienda è capofila di quell'appalto. Gli avranno mal riferito o non avrà letto le carte, manda a dire al presidente della regione che aveva parlato di vere e proprie truffe. Noi abbiamo seguito le indicazioni dell'assessorato, precisa mostrando le lettere. Intanto l'associazione dei medici chirurghi interviene, gli unici veri truffati siamo noi senza tutele. No alla riforma dell'IRFIS almeno nella parte riguardante la prestazione di garanzia nei confronti dei prestiti richiesti dalle imprese operanti in Sicilia. Per il commissario Ronica si configurerebbe come aiuto di Stato e dunque avrebbe dovuto avere prima il via libera dall'Unione Europea. Bilancio e leggi di stabilità regionali saranno incardinate entro l'anno ma non potranno essere approvati se non a gennaio. Lo conferma il presidente dell'Ars Giovanni Erdizzone durante la conferenza stampa di fine anno. Poi attacca sui prossimi impegni. Stop con la macelleria sociale, il Parlamento si impegni nel sostegno alle imprese e allo sviluppo. È ora di dire basta alle norme fatte in emergenza. Dopo lo scandalo si cambia rotta a Lampedusa. La Lega Cop nomina il professore Roberto Di Maria, nuovo amministratore unico di Lampedusa Accoglienza. Dopo l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione ed accusa lo Stato ci ha lasciati soli e adesso vuole scaricare su di noi le proprie responsabilità. Tragedia a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Uccide la sorella con un colpo di fucile al volto partito mentre puliva l'arma usata per la caccia. Per Maria Celeste Patanè, 23 anni, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati. Il fratello di un anno più grande dovrà rispondere di omicidio colposo. Paura nel Messinese a causa di una scossa di terremoto di intensità 4 della scala Richter è registrata alle prime luci dell'alba. Quasi un milione di persone svegliate fra Sicilia e Calabria. In tanti sono scesi per strada ma non si registrano danni a persone o cose. Il presepe vivente di Suttera diventa ecologico. In collaborazione con l'associazione Fare Ambiente e con la società uno a uno differenziata i piatti di plastico usati durante le degustazioni che accoglieranno i visitatori verranno riciclati così come l'umido consumato dagli animali che animano il presepe a vigilare sulla corretta destinazione dei rifiuti gli alunni delle scuole.